Tornano a salire i dati dell'emergenza coronavirus in Abruzzo. Sono 314 infatti nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 3905 tamponi. È risultato perciò positivo l'8,04% dei campioni. Si registrano nove decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale a quota 1300. In aumento gli attualmente positivi. A fronte di un lieve calo dei ricoveri complessivi che passano dai 516 di ieri ai 508 di oggi, aumentano le terapie intensive. Dei nuovi positivi il più giovane a 6 mesi e il più anziano 91 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 36. 5 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. I nove decessi, tre dei quali risalenti ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle ASL, riguardano persone di età compresa tra i 59 e i 102 anni. 5 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 37 in più, per un totale di 11.216. 468 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 40 più 2 al netto di dimissioni, decessi e 5 nuove ricoveri sono in terapia intensiva, mentre gli altri 10.708 più 87 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 25.823 più 226. La località con più nuovi casi è San Salvo, 22, seguita dall'Aquila e Pizzo Ferrato, entrambe con 17 contagi, 15 nuovi casi a Montesilvano e 14 a Pescara. Dei 38.339 casi complessivi in Abruzzo, 11.582 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 56 rispetto a ieri, 8.366 in provincia di Chieti, più 142, 7.752 in provincia di Pescara, più 60, 10.152 in provincia di Teramo, più 48, 325 fuori regione, più 7 e 162, più 1, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.